Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, 17 ragazzi Questa è solamente una guida per principianti, per quelli che hanno iniziato ad usare il proprio pc E davanti a loro si trovano un bel sistema operativo Windows 11 E vogliono, non so, nascondere la barra delle applicazioni In pochi minuti vi faccio vedere come nasconderla Perché è molto comodo, nel senso anche fare video e mettere anche altre icone sul desktop Quindi ragazzi, non ci basta che andare qua sopra, su Windows 10 Bastava andare su barra delle applicazioni, impostazioni E poi usciva una schedina dove la spuntava e poi si nascondeva automaticamente la barra Quindi andiamo su impostazioni della barra delle applicazioni Come potete vedere, comportamenti della barra delle applicazioni Qui c'è scritto nasconde automaticamente la barra delle applicazioni Poi mostra logo, mostra barra, quindi possiamo anche fare così, così E poi nascondere automaticamente la barra delle applicazioni E chiudi Ecco Come potete vedere, io posso mettere l'icone qua sotto anche Per liberare un po' di spazio Ok E si alza Ok Quindi ragazzi, il video finisce qui Una semplice guida per principianti Quindi grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao